Netflix più videogiochi uguale Google Stadia Ciao amici edXS2Games e benvenuti in questo nuovo video io sono Michele Finalmente ci siamo ragazzi dopo anni di rumor e voce di corridoio Google entra ufficialmente nel mondo dei videogiochi e lo fa secondo me alla grande con Google Stadia o Stadia, ok come sapete adXS2Games è un canale basato sia sulla tecnologia Sia sui videogiochi quindi potevano fare un video su questo argomento Beh certo che no per chi negli ultimi giorni ha vissuto su Marte o su qualsiasi altro pianeta del sistema solare beh Google ha presentato la sua nuova console da gaming perché le virgolette beh perché di fatto non è una vera e propria console o perlomeno non per come l'abbiamo intese fino ad oggi Stadia sarà di fatto una sorta di Netflix dei videogiochi si tratta infatti di gaming in streaming diciamo pure cloud gaming noi ci limiteremo a connetterci al data center centrale di Google che funzionerà come una sorta di hub centrale per tutti i videogiocatori di fatto non avremo bisogno di nessuna hardware nessuno scatolotto fisico è tutti calcoli tutta l'elaborazione avverrà in streaming e questo comporta lo avrete capito benissimo la necessità di possedere una buona anzi un'ottima connessione internet e diciamo che in italia Siamo un po messi male sarà possibile accedere a stadia tramite qualsiasi dispositivo dotato di un display che sia il pc di casa il laptop il televisore il tablet e anche lo smartphone pensate ad esempio di giocare il nuovo assassin's creed sulla vostra televisione di casa Mettere il gioco in pausa e riprenderlo dopo due ore sullo smartphone mentre state aspettando L'autobus beh questo è google stadia essendo la capacità di calcolo virtuale sarà quindi in continua evoluzione E già nelle sue fasi iniziali permetterà di raggiungere connessioni permettendo i 4k 60 fps in hdr praticamente Irraggiungibili da qualsiasi console attuale secondo quanto detto da google la potenza di calcolo attuale messa a disposizione Di ogni giocatore sarà superiore alla somma di una playstation 4 pro è una xbox one x Insomma un mostro di potenza e questa ragazzi sarà una vera evoluzione Perché non ci saranno più le generazioni di console come l'abbiamo sempre ricordate playstation 1 pression 2 pression 3 eccetera eccetera ma basterà semplicemente Aggiornare l'applicazione o meglio che google Aggiorni i suoi data center in modo da migliorare le qualità tecniche dei nuovi videogiochi Sarà presente il cross play quindi chi gioca da smartphone potrà Interfacciarsi giocare insieme o sfidare anche i giocatori che in quel momento sono connessi dal pc però questo sarà a Discrizione degli sviluppatori pensate che google ha già parlato del supporto all'otto k 120 fps nel giro di pochi anni invece per quanto riguarda i videogiochi google ha già annunciato la partnership con ubisoft con id è stata creata anche una software house interna è Sicuramente altri nomi spunteranno fuori nel corso dei prossimi mesi l'unico vero hardware necessario per utilizzare Stadia sarà semplicemente il controller dedicato un joypad molto interessante che nella disposizione Dei tasti ricorda molto il dual shock della playstation Pensate che si connetterà in wifi direttamente al data center di google Questo però comporta che la latenza tra il comando dato è l'azione nel videogioco dovrà essere veramente bassa Immaginatevi un picchiaduro come mortal kombat in cui premete il tasto x per dare un pugno è l'azione avviene nel gioco dopo un secondo beh sarebbe ingiocabile per valutare questo aspetto dovremmo aspettare l'uscita ufficiale di stadia però ho molta fiducia in google Comunque sia ragazzi al momento sappiamo solo che il google stadia sarà rilasciato entro la fine del 2019 il suo costo al momento non è stato ancora comunicato Però secondo me avremo una sorta di servizio ad abbonamento mensile esattamente come funziona per netflix quindi voi vi scaricate l'applicazione di google stadia sullo smartphone sul pc sul televisore Pagate quell'abbonamento mensile ci giocate quanto volete e dove volete però questa è solo una mia supposizione Vedremo come sarà realmente solo tra qualche mese quando avremo maggiori notizie Bene ragazzi questo era anzi sarà google stadia secondo me una vera rivoluzione per il mondo dei Videogiochi si parla da oltre dieci anni di console in streaming e finalmente eccoci qui fatemi sapere ora voi cosa ne pensate ragazzi di questa google stadia Lasciando un bel commento qui sotto Nei commenti e ovviamente se volete supportare questo canale noi non chiediamo nessuna donazione Ma un semplice like una condivisione e iscrivetevi se non l'avete già fatto appena ci saranno altre informazioni In discrezioni su google stadia ve le comunicherò ragazzi perché mi interessa davvero Tantissimo bene amici questo è davvero tutto noi ci vediamo al prossimo video ovviamente sempre qui su adxs2games ciao ragazzi E